Salve a tutti. Oggi voglio parlarvi di questo BM1000, uno scooter elettrico a pedalata assistita che non necessita di assicurazione e patente per poterlo guidare. Uno scooter con ruote grandi da 18 pollici, un motore elettrico brushless da 1000 Watt che non necessita di manutenzione e che è in grado di portarvi oltre i 35 km orari. Una batteria a litio da 48 V 20 Ah estraibile che vi assicurano oltre 40 km di autonomia. Un impianto frenante idraulico con dischi da 220 mm. Faro a LED. Quadro strumenti digitale. Un comodissimo Bluetooth che vi consente di parlare al telefono o di ascoltare musica. Antifurto elettronico attivabile da telecomando. Un comodo e sicuro scannetto centrale più o una stampella laterale per i parcheggi brevi e rapidi. BM1000, uno scooter elettrico praticissimo e sicuro in città. Per le piccole commissioni e per andarci al lavoro. Il prezzo di listino è di 1690 euro. Oggi in promozione a 1390 euro finanziabili in sede anche con un semplice bancomat. Vieni a trovarci per ulteriori dettagli. Autometropoli, via Pietro Nenni 3335 Casoria, Napoli.